Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi vi parlo delle voci di mercato che sono scaturite dopo le ultime giornate di campionato riguardanti sempre la Fiorentina per il mercato che dovrà fare assolutamente per rinforzare la rosa quest'estate. In realtà ci sono stati tanti nomi che sono usciti diciamo da gennaio fino a praticamente oggi che alla fine nessuno diciamo si è concretizzatissimo tra cui per esempio mi ricordo un Antonelli del Milan o io non mi ricordo come si chiama l'esterno del Gingamp francese ora mi sfugge scusate ragazzi però insomma un esterno del Gingamp poi oddio non mi viene in mente altro però insomma tanti tanti nomi caldi che comunque erano stati accostati alla Fiorentina da quest'inverno perché i due nomi caldi che sono stati accostati alla Fiorentina sono due nomi molto interessanti uno è quello del centrale del sassuolo a Cerbi e l'altro è quello del terzino sinistro dell'Inter Santon allora vi posso parlare generalmente, cioè è inutile vi parli generalmente di chi sono questi due alla fine li conoscete tutti però vi posso, cioè vi fa un appuntino su questi due allora per quanto riguarda a Cerbi ragazzi cioè se la Fiorentina dovesse prendere a Cerbi lo porto io da sassuolo lo vado a prendere in macchina e lo porto in squadra perché ragazzi un difensore centrale perché a Cerbi non so chi l'ha visto giocare ma chiunque c'è anche voi chi l'ha visto giocare sa che è veramente un ottimo centrale, poco di esperienza comunque perché ha giocato tanti tanti anni nel sassuolo, adesso ha anche un pochino la sua età però comunque serve un centrale di esperienza perché nella Fiorentina c'era il buon Astorino però adesso mi sembra l'unico, il più vecchio mi sembra sia Pezzella o Ugo insomma c'hanno 27, 26 anni, insomma nessuno di grande esperienza ecco quindi ci vuole comunque uno che vada a dettare i tempi nella difesa e secondo me a Cerbi sarebbe un rinforzo veramente ottimo invece per quanto riguarda Santon allora questi versi non tanto perché non mi piace il mio giocatore all'Inter ha fatto male, ha fatto malissimo per ora però sono dell'idea che comunque è un giocatore che ha tanto da dimostrare e che può dimostrare tanto il problema è che andremo ad avere secondo me due giocatori che entrambi vorrebbero fare i titolari perché abbiamo Biraghi in questo momento sulla faccia sinistra Max Oliveira sono dell'idea che comunque se ne andrà perché comunque alla Fiorentina non ha avuto mai tanto spazio e non è stato mai apprezzato diciamo anche dal gioco quindi insomma sono dell'idea che da quest'estate se ne andrà da qualche parte quindi direi Biraghi e poi in questo caso Santon se tante volte dovesse arrivare in rosa Santon sarebbe un altro di quei giocatori che di sicuro dopo diciamo la brutta esperienza di Milano vorrebbe cercare comunque un riscatto quindi non di sicuro di fare la panchina cioè lui non viene da Milano alla Fiorentina da fare la panchina a Milano a fare la panchina a Firenze cioè non avrebbe senso no? quindi secondo me prendere un giocatore del genere sarebbe un po' un errore se Biraghi dovesse andare via per esempio in questo caso sì perché comunque sono state voci di mercato del procuratore che dice se dovesse arrivare un'offerta da Milano insomma la accetteremo molto volentieri però io spero di no sinceramente perché comunque ragazzi Cristiano Biraghi abbiamo scoperto in questo anno di campionato che è un ottimo giocatore ecco cioè non lo nasconde nessuno per quanto riguarda ovviamente la fascia destra Laurini insomma Bruno Gaspar anche lui probabilmente è in diretta via insomma di andare a fare le valigie insomma andare via da Firenze ovviamente ritorna venuti dal Benevento che io sono contentissimo perché è un ragazzo giovane e in questo caso farebbe il panchinaro però comunque si scamberebbero tra lui e Laurini poi tra l'altro ci potrebbe essere anche Milenkovic perché può fare il terzino destro quindi a destra siamo messi benissimo non c'è bisogno di rinforzi però a sinistra ovviamente c'è bisogno di qualche uno e secondo me Sant'Onno in questo caso non sarebbe adatto perché secondo me vorrebbe fare il titolare un nuovo rinforzo per la fascia sinistra io prenderei un ragazzo giovane un ragazzo che comunque farebbe la panchina ovviamente però un ragazzo giovane che ha voglia di crescere che ha voglia di giocare però che comunque sarebbe disposto a fare la panchina perché secondo me sarebbe a 60 anni non sarebbe disposto a fare la panchina comunque niente ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di queste voci di mercato di Acerbi e di Sant'On mi piacerebbe molto sapere i vostri punti di vista chi vi piace dei due se uno non vi piace se quell'altro non vi piace nemmeno se vi fanno schifo insomma entrambi se vi fanno schifo se entrambi vi piacciono fatemelo sapere sotto nei commenti ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube mettete un mi piace se vi è piaciuto un non mi piace se non vi è piaciuto e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao